Qui abbiamo una vera superstar. Sì, suppongo di sì. Sì, sono io. Come stai? Piacere di conoscerti. Tu hai detto che a 40 anni nessuno è una pop star. Ma tu hai 42 anni e sei la dimostrazione che non è vero. Sì, forse è vera questa cosa. Perché in realtà essere una pop star è una roba da giovani. Per cui se sei fortunato quando inizi la carriera prima va così, subito in alto. E poi si scende giù in picchiata. Poi quando invecchi comincia ad andare giù. E io sono qui, in questo punto. Però diciamo che va bene. Come sei cambiato in questi anni? Quanto sono cambiato? Beh sì, una volta ero scatenato. Ero un edonista. Ero arrogante. Adesso sono un papà. Sono un padre di due figli e sono sposato. non sono più edonista come in passato e neanche più arrogante. Adesso vado a lavorare. Sì, sono cambiato molto. La mia vita è cambiata molto. Sto molto meglio a livello mentale e anche a livello fisico. Tutta la mia vita è migliorata. Come ti vedi tra vent'anni? Sul palcoscenico? Still performing? O in una fattoria con i tuoi ragazzi? Con tanti figli in una famiglia numerosa? Oh, certo. In 20 anni? Ma nel 2006 mi sono ritirato dalle scene perché mi è esplosa la testa e sono tornato a disintossicarmi. e mi sono fermato completamente. Indossavo un caftano di cashmere. Mi sono fatto crescere la barba. Mangiavo ciambelle, patate fritte e cercavo gli UFO. Si è fermato tutto. La mia mente si è fermata. Il mio corpo. I miei arti si sono fermati. E ho capito che dovevo invece tornare a lavorare. a dare un senso a tutte le cose. Nel 2009, quindi, poi ho fatto un nuovo album. Ho fatto una tournée e da allora non mi sono più fermato perché un uomo ha bisogno di un lavoro, ha bisogno di uno scopo nella vita. Infatti poi la gente quando si ritira in pensione muore subito dopo. Per cui tra vent'anni mi immagino a parlare di nuovo con te. Mi immagino ancora su un palco e magari a pubblicare il mio ventesimo album. C'è una canzone bellissima che hai regalato all'Italia che è il singolo Love My Life. A chi è dedicata? A te stesso o alla tua famiglia? È una canzone dedicata ai miei due figli. Mia figlia che ha quattro anni e mio figlio che ne ha due. Ho fatto tanta terapia e ho capito che quello che ti succede da piccolo ti condiziona quando cresci. Quindi io guardo i miei figli e ho la consapevolezza che quello che faccio per loro potrà causare dei problemi in futuro. E per questo motivo spero di dare ai miei figli una casa sicura, una vita felice, un cuore felice, letteralmente. Tu l'ami la tua vita? Sì, adesso sono molto più contento di quanto non fossi in passato perché adesso capisco di più il mio ruolo su questo pianeta. Mi piace mia moglie, trovo che sia molto simpatica. Lei mi ama e io la amo. E questo mi ha dato proprio una base concreta su cui costruire quelle cose e far sì che le cose vadano bene. C'è un'altra canzone nell'album che si intitola When You Know e è dedicata proprio a Aida e dice Only You Know Me. Sì, ho scritto una canzone per lei ed era un po' un regalo di San Valentino e un regalo di Natale. E quando dovevo decidere le canzoni da mettere nel disco mi sono messo lì con lei e glielo ho fatte sentire. sente la prima e dice ok, poi la seconda e le va bene, senta la terza e va bene. Poi le faccio sentire When You Know. Silenzio. Nah, dice Aida, quella canzone no, non la metterei nel disco. Ma come? Questa è una canzone che ho scritto per te. E ad ogni modo la canzone è finita nel disco nella versione dell'axe dell'album. E sì, parla di mia moglie. Sì, grazie, lo so, sono molto fortunato. In luglio ci sarà la data a Verona e Verona è la città di Romeo e Giulietta ovvero dell'amore. Farai qualcosa di particolarmente romantico per i tuoi fan? Sì, certo che farò qualcosa di romantico per questo tour. Magari chiamo qualcuno sul palco. In passato mi sono sposato per finta sul palco con una fan e in un altro tour i fan erano nel letto con me. Invece molto tempo fa ho fatto anche questo. Non so ancora cosa faremo. Però sicuramente faremo qualcosa di romantico nella bellissima città di Verona. C'è differenza tra l'uomo e l'artista? Sì. C'è molta differenza tra Robby artista e Robby la persona che sale sul palco come personaggio e Robby l'uomo la persona non è esattamente così. Il Robby artista è un personaggio un super uomo con dei super poteri. Il Robby persona che poi se ne torna a casa è invece timido onerabile è sensibile e spesso depresso. Robby è il personaggio e Robert è la persona. A Robby Williams piace molto piacere e si vede nel video di Party Like a Russian. Party like a Russian Disco seduction Party like a Russian Oh Alvin like an oligarch È un pregio o un difetto? Piacere? Io sono un intrattenitore ed è questo ciò che fanno gli intrattenitori. Sul mio passaporto prima ancora che cantante prima ancora che autore c'è scritto che sono un entertainment questo è il mio lavoro e io penso sia una cosa positiva perché alla fine ho gli stadi pieni di persone perciò sono d'accordo con te è una cosa positiva piacere alla gente. Nella copertina del disco c'è un ring e due Robby con un'aria minacciosa hai lanciato una sfida a te stesso? In realtà è un'immagine interessante usata da altri e io l'ho rubata mi sembra più interessante di fare la classica foto da copertina del disco in cui sei lì in posa tutto bello però in effetti l'ultima grande battaglia è quella che si svolge nella mia testa Robby vs Robby C'è una canzone del buongiorno quando ti svegli al mattino che cosa canti che cosa ti piace ascoltare? No non ascolto musica quando mi alzo la mattina ascolto degli adulti che parlano con altri adulti di uomini che prendono a calcio un pallone Ti piace ancora il calcio? Molto? Sì certo che mi piace ancora il calcio e qual è la tua squadra preferita? Ma il team è AC Milan Ah è il Milan e siamo arrivati alla fine della nostra conversazione e ho un regalo per te così la mattina quando ti svegli puoi ripensare alla nostra intervista con questa tazza Oh grazie magnifico grazie e quando vuoi giocare a calcio con i tuoi amici con la tua famiglia o con mio figlio abbiamo una maglietta del Milan per te Oh grazie grazie mille davvero grazie mille se mi volete prendere sono un ottimo mancino and so that's it thank you very much can I ask you a picture? yeah of course yeah yeah of course to end the interview yeah do you like selfie or you prefer pictures? whatever you want yeah I'm horrible in selfie but we can ok let me let me do that yeah thank you thank you